Antonino Fava, Peppe Diana, Ilaria Alpi, a loro, a tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora notizia, ma la nostra memoria e il nostro impegno. I nomi delle vittime innocenti della mafia scanditi uno ad uno davanti ad alcuni luoghi simbolo e per le vie della città. L'Ecco celebra la ventisettesima giornata della memoria e dell'impegno e ricordo di quelle donne e quegli uomini, purtroppo una lunga lista, che hanno contrastato le mafie a viso aperto, non cedendo a ricatti e minacce o che si sono ritrovati nella traiettoria di una pallottola. Una staffetta che ha visto protagonisti la delegazione lecchese di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie e gli studenti delle scuole del centro di promozione della legalità. È fondamentale ridare un nome a tutte le vittime innocenti delle mafie, appunto non come un esercizio di mera memoria a fine a se stessa, ma proprio perché questo ci deve insegnare ad osservare il presente con occhi diversi. Letti ed esposti sono stati i 1055 nomi che ad oggi risultano essere appunto i nomi delle vittime innocenti delle mafie. È un elenco che purtroppo di anno in anno si aggiorna. L'idea era quella di collegare appunto tre luoghi simbolo della città. Luoghi simbolo, Fiore e il Giglio, due beni confiscati alla criminalità organizzata, oggi restituiti alla città. E un altro luogo simbolo che è la prefettura, che sostanzialmente è poi il riferimento per quanto riguarda i beni confiscati alle mafie. Siamo riusciti quest'anno a coinvolgere 10 istituti per un totale di circa 650 ragazzi, finalmente in presenza, finalmente tutti insieme, perché credo che sia davvero importante per loro viverlo in questo momento. Questa attività è stata ovviamente promossa da Libera e le scuole del CPL, un gruppo di scuole che davvero sta lavorando molto su queste tematiche e che vuole continuare. La mafia si insinua dove c'è o povertà o dove c'è ricchezza. Dove c'è povertà perché recluta mano d'opera, recluta persone nel bisogno e soprattutto le più fragili. Oppure dove c'è ricchezza, come nel nostro territorio, dove cioè è possibile riciclare in attività solo apparentemente illegali gli utili derivati da traffici illeciti. Bene, noi questa guardia dobbiamo tenerla sempre alta, soprattutto oggi, dove entrambi questi elementi, sacche di povertà e risorse economiche importanti, in questo periodo storico si stanno riversando anche sul nostro territorio.